Chi ha voluto riporre in me la propria fiducia per guidare quest'Aula, nella consapevolezza, direi certezza, che chi non l'ha fatto troverà una presidenza assolutamente imparziale, ispirata non solo alle norme e ai regolamenti, ma anche alla sensibilità e alle culture di tutti gli eletti. Mi sia consentito salutare i colleghi che sono stati rieletti, i colleghi che hanno altri incarichi che erano presenti nella precedente legislatura e indirizzare anche il mio in bocca al lupo in modo particolarmente affettuoso a chi per la prima volta ha il privilegio e la responsabilità di sedere in quest'Aula.